Presidente Paolo Riccagno, Presidente del Consorzio dell'Asti, siamo in chiusura di questo 46esimo Vinitali di Verona, cambio di date, cambio di giorni, come è andata secondo lei? Direi che le preoccupazioni dell'inizio della manifestazione erano tante ma non ci sono stati cambiamenti nel pubblico anzi forse abbiamo avuto domenica e lunedì sicuramente un pubblico interessante, lunedì un pubblico che era veramente interessato del settore e quindi forse queste date non sono andate assolutamente male, credo che si potrebbe continuare, non so le valutazioni che farà la fiera ma per le valutazioni che hanno fatto i nostri associati e noi come Consorzio credo che vadano bene. Parliamo di Asti e di Moscato d'Asti, voi siete reduci da questa performance 2011 interessante, più di 107 milioni di bottiglie tra Asti e Moscato d'Asti, gli umori del mercato adesso al Vinitali, quali sono? Gli umori del mercato sono che il prodotto manca, le aziende hanno bisogno di prodotto per cui noi come Consorzio abbiamo detto di farci delle prenotazioni scritte di prodotto, cioè delle richieste di prodotto scritte e a questo punto le porteremo poi nella commissione giusta per dire allora questo è il prodotto che manca, che cosa vogliamo fare? Capisco che piantare i vigneti oggi non serve a niente perché arriveranno tra tre anni, però non è possibile continuare su queste impostazioni dove si dice sempre no a tutto, il mercato richiede il prodotto, noi non possiamo non darglielo, le aziende stanno rifiutando contratti sul Moscato d'Asti o sull'Asti spumante ma non li rifiuteranno su un prodotto alternativo, quindi a questo punto chi ci rimetterà sarà il nostro prodotto e questo noi non possiamo assolutamente permetterci. Questa è la mia idea e non solo la mia idea, abbiamo sentito una buona parte di viticoltori che sono più che interessati a portare avanti questo discorso, quindi se è fatto con correttezza e concretezza credo che non dia nessun danno e nessun fastidio, anzi giovi al mercato. Non si può non parlare allora delle prossime riunioni che ci saranno tra Industria, Vignaioli, Cantine Cooperative, come vede la cosa? Ci sarà? Come ha detto qualcuno un punto d'incontro? Comunque la volontà di trovare un punto d'incontro e qual è la posizione del Consorzio? In Piemonte se non troviamo un punto d'incontro diventa veramente difficile costruire, non possiamo più andare avanti con gli individualismi, i punti d'incontro sono necessari, credo che oggi lo dobbiamo trovare necessariamente per poter costruire qualcosa nel prossimo futuro, altrimenti perderemmo veramente una possibilità importante, per cui io mi auguro che ci sia questa volontà anche se sono abbastanza dubbioso perché non vedo da altre parti la stessa volontà che possiamo metterci noi. Noi siamo anche disponibili a superare tutte le situazioni che ci sono state a patto che si riconosca che il Consorzio col Decreto 61 ha la gestione della denominazione e almeno le leggi vengono rispettate. Grazie. Grazie a voi.